Ben ritrovati per coloro che hanno già partecipato ad alcune di queste lezioni e benvenuti a quelli che invece sono per la prima volta ad assistere alle lezioni di storia. Lezioni di storia è un progetto ideato e proposto dall'edizione La Testa e che la provincia autonoma di Trento ha deciso di organizzare soprattutto in concomitanza del centenario della prima guerra mondiale, infatti le nove lezioni trattano gli argomenti della prima guerra mondiale sotto i nove aspetti diversi. È un progetto a cui ci teniamo molto, l'ho detto molte volte, l'ho detto tutte le volte che ho presentato le lezioni, l'intento è quello di divulgazione, non tanto rivolto agli storici professionisti ma a tutti quelli che amano e vogliono approfondire la storia e la divulgazione viene fatta attraverso eminenti storici di livello nazionale e di livello internazionale. Credo sia un'occasione per tutti i trentini di assistere a lezioni molto importanti. Le lezioni sono state possibili, dicevo, con la collaborazione di edizione della terza che sta facendo queste lezioni in molte città d'Italia con molti risultati importanti come credo anche qua a Trento. Ma è stata possibile anche attraverso il finanziamento o la condivisione di questo progetto di quattro sponsor che cito, sono le casse rurali, la Cavit, la Dolomiti Energia e il Medio Credito, ma anche con la collaborazione dei due comuni di Trento e di Rovereto, voi sapete che le prime cinque lezioni si stanno facendo e si faranno al teatro sociale, le altre quattro ci sposteremo invece al teatro Zandonai. Devo dire che abbiamo dei riscontri molto importanti, il format è quello della lezione di un'ora, un'ora e un quarto massimo senza dibattito e credo che sia un format da tenere in considerazione. Detto questo siamo alla quarta lezione tenuta dal professor Gianni Toniolo che si occuperà dei costi della prima guerra mondiale. Per fare questo però do la parola ad Alessandro De Bertolini, giovane storico della Fondazione Museo Storico del Trentino. Mi dimenticavo una cosa importante, ci arrivano molte richieste se queste lezioni verranno poi rese fruibili anche attraverso altri mezzi. Noi stiamo registrando tutte le lezioni quindi cercheremo di metterle a disposizione di tutti coloro che vorranno usufruirne, soprattutto anche al mondo della scuola. Verranno riproposte da venerdì prossimo sul canale di StoryLab 602 del digitale terrestre, se non sbaglio canale, che è il canale di storia gestito dalla Fondazione Museo Storico. Do la parola a Alessandro per questa presentazione e do il benvenuto al professor Gianni Toniolo. Grazie a tutti e arrivederci. Buongiorno, buona domenica. Io vi ringrazio, ringrazio a tutti loro per essere intervenuti. È con molto piacere che presento il nostro ospite oggi qui a Trento, che è un compito diciamo così non facile, perché molti di noi forse lo conoscono già. Io provo brevemente a tracciare un profilo del professor Toniolo, il mio intervento sarà brevissimo, poi cedo subito la parola. Laurea in Economia alla CA Foscari di Venezia, post dottorato ad Harvard. Oggi insegna all'Università Lewis di Roma, ma contemporaneamente al Centro di Ricerca di Politica Economica di Londra ed è professore merito alla Duke University negli Stati Uniti, una delle università degli atenei più importanti degli USA. Ha insegnato, è stato professore ordinario di storia economica all'Università Tor Vergata di Roma, ordinario di politica economica all'Università CA Foscari di Venezia, dove tra l'altro ha diretto il Dipartimento di Scienze Economiche. È stato inoltre poi professore visitatore in molti atenei al di fuori europei, ma anche al di fuori dell'Europa. Gli ambiti di interesse specifici della sua ricerca sono molto vasti, si occupa prevalentemente di, lo abbiamo capito, storia economica, ma nella fattispecie dello sviluppo economico italiano negli ultimi due secoli, dall'Ottocento in avanti, dall'Ottocento a oggi, e dello sviluppo economico della storia, diciamo così, dell'Europa occidentale, anche questa in un arco temporale che abbraccia la storia degli ultimi due secoli, dall'Ottocento a oggi. Altri suoi campi di studio specifici sono la storia finanziaria, con riguardo alla storia delle banche centrali italiane, ma non solo anche europee, e poi si è occupato anche di storia economica del Giappone nel secolo XX. Ha scritto molto, io vi invito, se avete tempo, per chi non l'ha fatto, a leggere alcune delle sue opere. Ha scritto molto per i più importanti editori italiani, evidentemente per la terza, editore al quale è legato ormai da più di trent'anni, credo, ma anche per Mondadori, per Il Mulino. Ha pubblicato tanto, innumerevoli sono i suoi saggi, non solo in lingua italiana, evidentemente, ma in lingua soprattutto inglese, la maggior parte. Nell'ambito, diciamo così, dell'attività anche giornalistica e pubblicistica, è codirettore della rivista di storia economica, fondata da Luigi Einaudi, ed è editorialista del Sole 24 Ore. Io mi fermo qua, ho cercato forse anche con un po' di arbitrio di tracciare un profilo biografico all'interno della sua vasta opera, spero di essere stato sufficientemente chiaro. L'argomento che affrontiamo oggi, insomma, economia e il prezzo della guerra, lo avete visto, io su questo davvero non mi soffermo. Soltanto una chiave di lettura, mi permetto di dire che questa è una di quelle tematiche che stanno, diciamo così, a monte, stanno dietro spesso, molto spesso, le cose che accadono. Proprio con gli strumenti della storia economica, con le categorie della storia economica, è possibile comprendere i grandi eventi, gli eventi della storia, i grandi eventi come in questo caso la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale, attraverso chiavi di lettura e interpretazioni che forse normalmente ci sfuggono. Questa è l'importanza, a mio avviso, della storia economica e per questo vi invito con grande attenzione a seguire l'intervento del professore, che ringraziamo per la sua cordialità e per essere presente oggi a Trento. Grazie e buon ascolto. Grazie Alessandro per questa presentazione, fin troppo generosa che non valeva la pena di fare. Io sono felice di essere a Trento, a Trento mi legano tantissime cose, se qualcuno mi offrisse un lavoro, sarei felice di abitare a Trento, un posto che mi piace moltissimo, tra l'altro sono stato fino all'anno scorso nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, che seguo da molti anni e che trovo una delle cose, una delle migliori università che io conosca nel nostro paese. L'economia, ma io cerco di, era detta la triste scienza, quindi non so come mai siete venuti a sentire, perché è una cosa noiosa. Cerco di parlare, guardate, per Benedetta e Leonardo, che sono qui davanti, vediamo se riesco, non dico interessarli che sarebbe una parola grossa, ma almeno a farmi un po' capire, farmi un po' capire anche da loro. Perché l'economia? Avete sentito un sacco di cose, nuove lezioni, tutte su temi interessantissimi, prima guerra mondiale. Però era fino a Luigi XIV, che di guerre ne ha fatte tantissime, che diceva, c'è l'argento chi fa la guerra, è l'argento, il denaro che fa vincere o perdere le guerre. Figuratevi se questo era vero nel Settecento, nell'età tecnologica, delle grandi scoperte costosissime e delle armi letali, quale fu la prima guerra mondiale, se non si trattò soprattutto di una guerra economica. Voi pensate una cosa sola, nel novembre 1918, la Germania occupava ancora tra un terzo e un quarto della Francia. Al momento dell'armistizio l'armata tedesca non era stata sconfitta sul piano militare. L'armata tedesca se ne andò, si liquefece, perché non avevano più palle per fucile, soprattutto perché avevano fame, soprattutto ancora di più perché da casa le mogli scrivevano, qui non ne possiamo più, i bambini non hanno da mangiare. Questa è l'importanza. Quindi fu una guerra vinta e persa sul campo di battaglia economica. Allora, io cerco di dirvi, vi dico un po' i punti che cerco di toccare benissimo. Le cause economiche della guerra, in questa bella epoch, quest'ultimo periodo prima della prima guerra mondiale. Poi dirò brevemente, perché ha connesso con l'economia, il teorema della guerra breve. Dirò perché l'economia è stato fattore di vittoria e di sconfitta. Poi diremo brevemente come può funzionare un'economia di guerra, come si finanzia una guerra. E infine la cosa più che a me poi interessa sempre di più dire è l'eredità. L'eredità che questa guerra lasciò ai decenni successivi. Ora, voi sapete che la bella epoch fu un periodo che, soprattutto dopo la prima guerra mondiale, si pensò fosse un grande periodo, meraviglioso di pace, di prosperità, eccetera. Guardate Lord Keynes come lo descrive questa frase, ormai abusata, ipercitata, eccetera, però la citiamo ugualmente così voi poi ve la ricordate. Che straordinaria stagione del progresso dell'uomo fu quella che terminò bruscamente nell'agosto 1914. L'abitante di Londra, tra parentesi, il ricco abitante di Londra, poteva ordinare per telefono, mentre sosseggiava il suo hotel del mattino a letto, una quantità di prodotti provenienti dall'intero globo. E nello stesso modo poteva investire la sua ricchezza in risorse naturali e nelle nuove imprese di ogni angolo del globo. Poteva inoltre utilizzare i mezzi di trasporto, rapidi e a buon mercato, per poter recarsi in ogni nazione e clima, senza bisogno di passaporto, senza bisogno di cambiare moneta. E poi aggiunge in questa frase, dice, e se queste cose non fossero successe, sarebbe seccato molto, perché dava per scontato che uno potesse viaggiare, potesse ordinare tutti questi meravigliosi prodotti. Bene, la prima guerra mondiale nasce, si sviluppa alla fine della cosiddetta prima globalizzazione, la prima grande globalizzazione. Questo è il mondo della globalizzazione, tutti i prodotti, tutti i capitali, che è quella che è l'antecedente di quella che viviamo noi oggi, che sì che io chiamo, con i miei studenti, la seconda globalizzazione. Ecco, globalizzazione è una cosa straordinaria, produce benessere per le collettività complessivamente intese, ma ogni globalizzazione ha vincitori e vinti. C'è chi vince e c'è chi perde. Le globalizzazioni cambiano la distribuzione del reddito e non c'è niente di così politico come la distribuzione del reddito. Cambia la distribuzione del reddito tra i paesi, è qui l'origine delle guerre, e cambia la distribuzione del reddito all'interno dei paesi. Non mi soffermerò su questo punto, ma brevissimamente, pensate che l'Inghilterra fu il paese nel quale ci fu la rivoluzione industriale, il primo grande sviluppo economico all'inizio dell'Ottocento. La Germania era rimasta indietro, perché ci mise del tempo a adottare queste tecnologie, in particolare la macchina a vapore, la diffusione della macchina a vapore, che è la tecnologia principale. Benedetta la locomotiva, che serviva a tutto per muovere le macchine, per muovere le persone, per andare sottoterra a prendere i minerali. Questo arrivò a tale. La Germania comincia a crescere negli anni 40 e 50, un po' prima dell'unificazione. Diventa aggressiva nel 70, fa la guerra con la Francia, e però, ecco il punto, la Germania cresce più rapidamente dell'Inghilterra. Si sviluppa molto rapidamente. E si sviluppa in questa ideologia del Lebensraum. I tedeschi dicevano, essi tutto bene, noi siamo più bravi del mondo. Purtroppo siamo arrivati in ritardo, non è colpa nostra se prima si è industrializzata l'Inghilterra. Industrializzandosi prima l'Inghilterra ha creato aree di influenza in tutto il mondo. Si è creata un impero, controlla la finanza mondiale e noi siamo rimasti indietro. Questo fatto che lo sviluppo economico sia, come si usa questa parola brutta, sequenziale, prima si sviluppa uno, poi si sviluppa l'altro, è un'origine di conflitto enorme. Se abbiamo tempo, diciamo due battute poi alla fine sul mondo di oggi, no? C'è una situazione molto analoga. Sono paesi emergenti che stanno crescendo rapidissimamente e che ritengono di essere rimasti indietro, di aver bisogno di una compensazione di qualche tipo. Ecco, questo fu uno dei temi delle origini economiche della Grande Guerra. fu uno dei congressi a Berlino nello 74-85, cercavano di mettersi d'accordo, di dividersi un po' le colonie, ma la Francia e l'Inghilterra avevano già occupato tutto. Quindi alla Germania, a cui diedero per comodo qualche colonia in Africa, restarono le briciole, no? Il famoso Tanganyika, il Cameron. Ecco, la prima globalizzazione dunque è una globalizzazione che porta a unire, ma anche a dividere. Questo tremendo crollo dei costi di trasporto, che tra il 1840 e il 1910 diminuiscono del 70%, fa sì, per esempio, che in Italia arriva tutto il grano americano. Dentro l'Italia si creano delle tensioni, che sono importanti per capire poi chi volle la guerra e chi non la volle, no? Chi vince e chi perde. Vincono i poveracci in questa circostanza, perché il pane costa poco. perdono i proprietari terrieri, che si alleano per ottenere una tariffa doganale, una protezione, una difesa da questo grano che veniva dalle praterie dell'Ouest dell'America. Si alleano con chi? Si alleano con la grande impresa, si deurgica la grande impresa meccanica. Questa alleanza fu poi un'alleanza che ci ritroviamo nelle famose gloriose giornate di maggio che portarono all'ingresso dell'Italia nella prima guerra mondiale. Fu anche l'età delle immigrazioni di massa, fu anche l'età delle immigrazioni di massa. Pensate, 46 milioni di persone, su una popolazione molto più piccola, lasciano l'Europa nel corso dell'Ottocento, chiedo scusa. Pensate che enorme spostamento di interessi e che tensioni questo. Se noi oggi abbiamo tensioni, difficoltà a accomodare la gente che viene, figuratevi allora quanto difficile era e che tensioni tutto questo portava. Bene, finisco con un'altra citazione, questa volta di Zweig. Non so se non l'avete letto, questo libro Il mondo di ieri di Zweig è straordinario perché racconta queste vicende in un modo, secondo me, dice e questo è proprio il là, col quale poi entriamo in questa cosa triste che è l'economia di guerra. È toccato alla nostra generazione, dopo secoli, di vedere nuovamente guerre senza dichiarazioni di guerra. Campi di concentramento, persecuzioni, bestialità sconosciute alle ultime 50 generazioni. Tenete conto che lui scrive all'inizio degli anni 40. Ma al tempo stesso, paradossalmente, mentre il mondo tornava moralmente indietro di mille anni, ho visto lo stesso genere umano innalzarsi, tecnicamente e intellettualmente, a compiere imprese mai viste. Vedremo che imprese mai viste si fanno, anche sul piano economico durante la guerra, superando in un solo battito d'ala le conquiste fatte in un milione di anni prima. Ecco, questo è un po' la sintesi. Si sarebbe potuto concludere con questa citazione di Zweig, no? Bene, ultima cosa. Gli interessi fanno, si dice molto, il capitalismo vuole la guerra. I grandi capitalisti vogliono la guerra. È vero o falso? Beh, in genere il capitalismo è pacifico. La maggioranza dei capitalisti è pacifica. Questo signore qui, che io non ho ancora fatto vedere, che si chiama Andrew Carnegie, pare sia stato il secondo uomo più ricco di tutto il XX secolo, magnata dell'acciaio, fu un grande pacifista. Fu un grande pacifista. Quindi la maggioranza dei capitalisti è per la pace. Non per motivi così ideali o di bontà, ma perché la guerra fa male agli affari. Però c'è, come sempre nel mondo, una minoranza invece di capitalisti che è pronta a fare grandi affari con la guerra. Questa minoranza di capitalisti è meglio organizzata. È più capace di fare pressioni sui politici per ottenere la guerra. E questo fu un po' il problema. Che una minoranza di interessi fu una delle cause che spinse alla guerra. In Italia c'erano i geolittiani, i neutralisti, che era la banca commerciale italiana, il credito italiano, due grandi banche legate capillarmente all'industria, che erano per la pace. C'erano tutte le industrie leggere, che erano importantissime, l'industria alimentare, l'industria tessile, eccetera. Dall'altra parte c'erano gli interventisti, i grandi complessi, in particolare il gruppo Ansaldo legato alla Banca Italiana di Sconto, grandi complessi che avrebbero fatto. Le navi, i cannoni, le mitragliatrici e quant'altro. Questo fu il campo, il pro e il contro della guerra che si combatté sul fronte interno al momento della dichiarazione. Bene, passiamo ai nostri, al secondo punto. Perché si fece la guerra? Perché se avessero immaginato che sarebbe finita in quel modo, le classi dirigenti europee non avrebbero fatto la guerra. Persero tutti. Ma c'era ancora legata all'economia una grande illusione. L'illusione che nel mondo moderno la guerra avrebbe potuto essere solo una guerra breve. Ricordo quella franco-prussiana del 1870, una campagna, si diceva una campagna. Tutti a casa per Natale, questi erano gli slogan. Facciamo sta guerra, diamo una botta ai francesi e anche un po' ai russi e ce ne torniamo a casa. E infatti questo signore che si chiama Alfred von Schiffen era quello che aveva immaginato il piano d'attacco dei tedeschi attraverso il legio per finire la guerra in tre mesi. Perché c'era questa idea? La idea era semplice. Dice, la guerra in un mondo moderno ormai così complesso e con la coscrizione universale. tutti i maschi dai 18 ai 50 anni sotto le armi non resta nessuno a mandare avanti l'economia, giusto? E allora, sì, si può fare per tre mesi durante l'estate, poi c'è il raccolto da fare, bisogna tornare a casa. Non si può lasciare il grano sui campi. Quindi certamente ci saranno delle forze nel mondo moderno, nell'economia moderna che fanno sì che la guerra sarà breve. Nulla fu così lontano dalla realtà, come sappiamo. La guerra non solo non fu breve, ma si mostrò che l'economia moderna era così ben organizzata e così ben organizzabile da poter sostenere uno sforzo infinito e impensabile. Infinito e impensabile. Quindi ci furono due errori di previsione molto forti. Alla fine abbiamo detto vinse l'economia più forte. Alla fine vinse l'economia più forte quella che seppe non solo produrre grano per dar da mangiare agli eserciti, cannoni, navi, ma anche che seppe ottenere i rifornimenti dall'estero. La Germania lo capì subito con la guerra sottomarina. Questo è uno dei sottomarini tedeschi che si impiegarono nella Prima Guerra Mondiale che furono piazzati nell'Atlantico per affondare quanto più navi neutrali, spesso, possibili per impedire ai grani americani e a volte anche alle armi americane di arrivare in Inghilterra e in Francia. Quindi si capì subito che la guerra era una guerra economica. La Germania per parte sua cercò le aree di influenza verso i Balcani dove poteva avere grano, petrolio e quant'altro. La Romania fu sempre una fissazione per i tedeschi. Bene. Detto questo, vediamo brevemente che cos'è un'economia di guerra, come funziona. L'essenza di un'economia di guerra è il trasferimento in tempi rapidi dalle produzioni di pace alle produzioni di guerra. Trasferimento di che cosa? Di fattori della produzione, di capitale e di lavoro, di macchinari e persone che prima producevano, diciamo una frase fatta, burro, bisogna fargli produrre cannoni. Non è così semplice perché la tecnologia di un caseificio non è quella di un cantiere navale che produce i sottomarini. Come si fa a spostare le persone e i macchinari in pochissimo tempo da un impiego all'altro? Dobbiamo naturalmente ridurre moltissimo i consumi della popolazione, la gente deve tirare la cinghia. C'è un problema di consenso, quindi, sul quale torneremo. E la gente, sì, finché si tratta di fare le parate militari è contenta, quando si tratta poi di tornare a casa e non avere sufficientemente da mangiare, la guerra diventa un po' meno popolare, no? Ecco, pensate che lo Stato ottocentesco, compleso quello italiano, era uno Stato piccolo, no? Diciamo Stato piccolo. La spesa pubblica italiana nel 1914 era il 15% del PIB, ed era alta nel contesto europeo. Gran parte andava a pagare gli interessi del debito pubblico, quindi era uno Stato piccolo. Pensate che noi oggi la spesa pubblica è sul 45%, il 143 ci ha detto Padoan l'altro giorno sarà nel 16. Ora, come si fa a fare questo cambiamento? Questo è, bisogna che lo Stato diventi regolatore assoluto di tutta la produzione, bisogna che lo Stato diventi regolatore assoluto di tutta la produzione. Inoltre, nel caso dell'Italia, l'Italia era un paese agricolo, molto indietro rispetto ai paesi con i quali si accingeva a combattere, compresa l'Austria-Ungaria che era abbastanza arretrata, però non come l'Italia. Guardate, questi dati sono interessanti. L'Italia produceva meno di un milione di tonnellate di acciaio contro i 17 milioni della Germania. Questo vi dice tutto, no? Questo vi dice tutto. come fa un paese così a pensare nel maggio 1915 mi metto a fare la guerra. Anche rispetto all'Austria-Ungheria era ben indietro. Guardate il numero di mitragliatrici al lato destro. L'Italia produceva 600 mitragliatrici, quegli altri 1500. c'è un... Eppure, questa è una cosa interessante, pur nella tragicità della vicenda bellica, l'Italia in quella occasione seppe organizzarsi, seppe fare bene. Seppe fare bene. Riuscì, cioè, contro ogni speranza, contro ogni ragionevole previsione anche degli economisti del tempo a far fronte alle esigenze economiche di questa guerra. Se avessimo tempo vi racconterei poi, ma ve l'avranno già raccontate invece, le vicende del del rancio, cosa mangiavano i soldati. Bisogna fare una cosa, per far combattere i soldati bisogna dargli a mangiare bene. Quindi è meglio far tirare la cinghia alle famiglie a casa. Per molti soldati italiani il mangiare carne ogni giorno fu la prima volta in migliaia di generazioni e avvenne proprio nelle trincee. E avvenne proprio nelle trincee. Naturalmente la carne bisogna produrla. La carne bisogna o importarla o farla e così il grano e così le altre cose. Beh, guardate, una cosa che è successa è molto interessante che dimostra quanto flessibile sia l'economia moderna. Quindi pensavo adesso mandiamo al fronte i soldati e buonanotte le campagne. Invece no, la produzione agricola italiana non diminui nel quinquennio, nel triennio, scusate, della prima guerra mondiale. Perché? Perché in agricoltura c'era un eccesso di mano d'opera. E le donne, i bambini, sai, anche i bambini e i vecchi come me, tutti adatti a produrre cose in agricoltura. No, anche un vecchietto come me, le galline le può tenere, no, le mucche le può mungere. Questo fu un risultato straordinario. Perché in guerra tu hai un problema. Devi mandare al fronte le trincee e soprattutto i contadini. Proprio per questo motivo qui. Mentre gli operai specializzati, quelli che già sanno fare le mitragliatrici, i cannoni, eccetera, e gli altri che vengono dall'industria tessile che tu vuoi riformare per insegnargli a fare i cannoni, quelli vanno tenuti nelle fabbriche. Alle fabbriche, però, fu data un'organizzazione militaresca. Proibito lo sciopero. Messi degli ufficiali dell'esercito dentro la fabbrica a tenere la disciplina, militarizzati gli operai, quindi fortunati gli operai dell'industria che non andavano a crepare al fronte, però soggetti alla stessa disciplina militare. Questa fu un'organizzazione, voi capite, di tipo quasi staliniano, da economia socialista, giusto? Ed ebbe successo, ecco qui, furono prodotti 69, 70 milioni di proietti d'artiglieria, non di pallini da caccia. L'Italia riuscì con questa organizzazione a, bene o male, a far fronte ai propri, ai propri bisogni bellici. Qui voi vedete due bellissime fotografie che mi hanno trovato gli amici di La Terza sulle fabbriche, sulla fabbrica Ansaldo, che era questa grande conglomerato tutto integrato che si andava dall'acciaio alla produzione delle navi, alla produzione delle automobili, alla produzione dei cannoni, alla produzione del munizionamento e di altre cose necessarie. Un enorme conglomerato finanziato da una banca che si chiamava la banca italiana di sconto. E qui voi vedete lo stesso. Mentre avete qui il come sono diventate le campagne, queste sono tutte donne. Quindi questa è l'organizzazione di un'economia di guerra. Le donne ci sono neanche più i buoi, non ci sono neanche in questa foto poi c'erano ma insomma poi si mangiavano era veramente una situazione una situazione molto difficile. Tanto sottonutriti incidentalmente voi sapete che poi dopo la guerra ci fu questa enorme epidemia di influenza la cosiddetta spagnola che uccise più persone di quante ne uccise la guerra e che fu si disse si diffuse così in modo così capillare una vera epidemia pandemia perché tutti erano denutriti. Situazione da Medioevo. bene sto andando avanti guardate che i tempi di rispetto come si finanzia questa guerra allora vabbè ok bisogna spostare le risorse non sono soldi sono proprio persone benedetta tanta gente che prima fa munge le mucche e poi deve andare a fare i cannoni come facciamo a spostarli? bisogna che lo Stato che prima aveva tasse che coprivano il 15% del reddito nazionale sia propri di una quota molto elevata del reddito nazionale solo così lo Stato potrà pagare gli industriali potrà pagare la produzione di cannoni potrà pagare i soldati al fronte eccetera quindi in pochissimo giro di tempo bisogna spostare le risorse dal privato dai consumi al pubblico allora voi avete tre quattro modi di fare questo no? quali sono questi quattro modi? il primo le tasse posso aumentare moltissimo le tasse agli italiani il secondo il debito mi indebito chiedo lancio dei prestiti credo alla gente di sottoscrivere i BTP quelli che sarebbero oggi i BTP il terzo modo stampo carta moneta stampo tanti soldi e con quelli naturalmente creo inflazione e questa tassa di inflazione è quella che consente di trasferire le risorse e infine l'ultimo modo di finanziare una guerra è la requisizione diretta tu hai un mulo che mi serve per portare il rancio su per le dolomiti e ti requisisco il mulo perché il mio alpino così può portare il rancio fino alla trincea attenzione questi modi di finanziare la guerra non sono neutrali dal punto di vista politico e quindi dal punto di vista del consenso della gente per la guerra e furono utilizzati in modo diverso dai vari paesi a seconda della struttura sociale e del consenso che c'era nel paese verso l'obiettivo della guerra e fiducia nelle classi dirigenti così se voi tassate la gente può dire capperi mio figlio sta morendo in trincea io tiro la carretta eccolo lì tiro l'aratro e in più devo pagare anche ulteriori tasse se però emetto dei titoli di debito mi indebito anche lì c'è un problema passo il mio costo della guerra in parte alle generazioni future può essere giusto può essere sbagliato generazioni future non stanno soffrendo per la guerra si dice se la guerra di loro beneficeranno c'è un motivo ci può essere anche un motivo etico sociale e dire facciamone pagare un po' alle generazioni future di questa guerra l'inflazione l'inflazione non ci se ne accorge però ha dei risultati sociali devastanti l'inflazione sradica le società come succederà in america in germania nel dopoguerra l'inflazione decima distrugge il ceto medio che è sempre la spina dorsale di ogni società e infine la requisizione la requisizione può essere molto iniqua ma come? porti via il mio mulo perché ti serve il mulo mentre il mio vicino che ha delle mucche non gliele porti via perché non ti servono può creare delle tensioni la requisizione bene l'Inghilterra finanziò largamente con le tasse società solida compatta Francia e Italia ricorcero molto al debito società meno socialmente meno solide con meno consenso verso le elite verso la guerra non si fidarono di tassare troppo la Germania che a un certo punto stava veramente Austria e Germania si stavano liquefacendo puntò tutto sulla sulla no puntò tutto puntò in gran parte sulla stampa di carta moneta la tassa di inflazione che non si vede ma ebbe effetti devastanti nell'immediato dopoguerra questa famosa iperinflazione tedesca che ancora oggi i tedeschi si ricordano e in Germania piuttosto che l'inflazione preferiscono la disoccupazione fino ad oggi ed è un problema che abbiamo oggi in Europa questa è una storia che racconteremo la prossima volta che vengo attretto bene l'Italia eccolo qua guardate che bello questo questo è uno dei tantissimi manifesti che si fecero per i ben cinque prestiti nazionali che l'Italia lanciò nel corso della guerra prestiti nazionali molto complicati come si fa a farli bisogna avere un consorzio di banche che li garantisce bisogna e qui la banca d'Italia che era stata creata da solo un ventennio si dimostrò uno strumento cruciale nella gestione della guerra in tanti in tanti in tanti modi e la gente sottoscriveva questi titoli a tassi di interesse crescenti evidentemente ma furono un grande successo l'altro problema che avevamo evidentemente era quello della valuta estera se volevo comprare il grano argentino la carne argentina o i cannoni americani prima che gli americani nel 17 entrassero in guerra dovevo pagarli in dollari non avevamo i dollari come si fa si fanno prestiti esteri si negoziano prima con l'Inghilterra che era la nostra alleata non poteva dire di no perché eravamo se l'Italia avesse ceduto avrebbe ceduto tutto il fronte il fronte dell'intesa quindi l'Inghilterra ci fa dei prestiti prestiti naturalmente anche con un certo senso di autointeresse presidi però dovete comprare le dovete spendere i soldi in Inghilterra per comprare prodotti inglesi però gli italiani avevano bisogno di anche soprattutto di comprare in America e lì sterline andavano benissimo però quindi ci fu questo problema molto grosso che venne risolto in parte gli inglesi lasciarono un po' di sterline da essere spese in giro un'altra cosa che nessuno sa però ve la dico perché è utile c'è poi un problema propagandistico importante che è quello molto tecnico del tasso di cambio quanto vale la lira sui mercati neutrali cioè New York perché è importante questo è importante come termometro delle aspettative sulla vittoria e la sconfitta quindi era molto importante dal punto di vista della propaganda per gli italiani fare in modo che la lira non si svalutasse troppo la lira si svalutava quando gli italiani perdevano le battaglie quando gli italiani perdevano le battaglie per dare il senso che non era una cosa così tragica e che c'era fiducia nella lira bisognava avere dollari e sterline per comprare lire e sostenere e sostenere per un motivo puramente propagandistico non so se mi sono spiegato ma è molto importante questo perché la psicologia in una guerra è cruciale è cruciale come voi sapete e quindi l'indebitamento estero fu fatto fu fatto sia soprattutto per comprare cannoni e cibo all'estero ma anche in parte per poter spendere queste munizioni vere e proprie munizioni che erano dollari e sterline in quell'epoca per sostenere il tasso di cambio quando ci fu caporetto fu un disastro anche sui mercati finanziari evidentemente e si pensò veramente che l'Italia avrebbe perso la guerra che gli austriaci sarebbero arrivati a Venezia eccetera gli stati maggiori pensarono di resistere sul Po non sul Piave bene cari amici io ho ancora circa 6-7 minuti per non annoiarvi troppo mi ha detto di parlare 50 minuti mi pare che finora ci siamo vorrei concludere vorrei concludere con l'eredità economica della guerra che è un'eredità economica ma anche politica vorrei concludere dicendo che dal 1915 si arriva per una serie ininterrotta di un'unica guerra in gran parte combattuta sul terreno economico al 1951 al 1951 al 1951 perché dico questo allora voi vedete qui un quadro di un signore che non essendo molto noto mi sono pure dimenticato il suo nome ma si chiama William Orpen che mostra tutti questi personaggi seduti attorno a un tavolo a discutere a Parigi nei primi mesi del 1919 come organizzare la pace fu una riunione tragica fu una riunione tragica che pose le le basi per i disastri futuri pose le basi per la grande crisi degli anni 30 la quale a sua volta produce la prima la seconda guerra mondiale perché dico questo perché politicamente si fece un errore a parte gli errori di smembrare l'Europa di dare a tutti a creare tanti piccoli paesi che creavano quindi situazioni economiche molto diverse e molto meno favorevole allo sviluppo di quello che erano stati i grandi imperi in particolare questo straordinario impero austro-ungarico che era un impero una grande area di libero scambio multiraziale multietnica eccetera e questo peso sull'economia europea ma soprattutto due cose successero la prima si disse particolari i francesi dissero qui noi abbiamo sofferto adesso i tedeschi devono pagare fino all'ultima lira il costo della guerra ora questa cosa è quasi impossibile perché per pagare i costi della guerra i tedeschi hanno bisogno di rilanciare il proprio sviluppo economico se non ho i soldi non pago neanche i francesi e gli italiani quando io ero bambino mi ricordo che andavamo a Bologna a trovare la nonna e mio papà mi mostrava vedi questi pian questi tramvai che c'erano a Bologna sono quelli che ricevemmo negli anni 20 come riparazioni di guerra si andò in Germania si è preso dalle città i tramvai e li si portarono in Italia questa storia che i francesi dovevano pagare era possibile solo se i francesi avessero avuto un grande sviluppo economico ma non si voleva che avessero un grande sviluppo economico perché se no sarebbe tornati alla potenza prussiana che avrebbe creato un'altra guerra quindi era un ciclo vizioso questo vi lascio stare creò delle tensioni politiche nel periodo tra le due guerre mondiale i tedeschi tornarono al mito dell'Ebbens Round della vittoria dissero appunto noi stavamo già ancora in Francia quando ci obbligarono a fare l'armistizio non abbiamo perso fumo traditi fumo traditi sul fronte interno da Rosa Luxemburg e gli altri socialisti fumo traditi internazionalmente ma questa nostra vittoria questa nostra sconfitta verrà verrà sanata successivamente si pensò già allora a questo no? come si come si risolse questa questione con facendo alla Germania grandi prestiti soprattutto da parte degli Stati Uniti Stati Uniti prestavano soldi alla Germania con questi soldi con questi con questi soldi la Germania pagava le reparazioni alla Francia all'Italia al Belgio e in più anche le avanzava qualcosa per importare materie prime e rilanciare la propria industria ma questi debiti una volta che furono rapidamente stoppati nel 1929-30 perché servivano i soldi all'America causarono la grande crisi dei delle banche e delle industrie tedesche obbligarono a questa famosa deflazione come oggi che una serie di elezioni successive portò al potere il piccolo caporale viennese austriaco il quale riprese tutto il gioco ci riarmiamo e ritorniamo quindi le vicende economiche e la cattiva sistemazione economica data a Versailles io la chiamo mai la pace di Versailles la tregua di Versailles tregua di Versailles ci fu tra il 1915 e il 1951 una grande guerra civile europea Charles de Gaulle la chiamò la seconda guerra dei trent'anni la guerra dei trent'anni del settecento per la successione per la successione spagnola una guerra di trent'anni che sostanzialmente non si ferma che cosa dunque ne traiamo e qui chiudo veramente ne traiamo qui vedete il nostro quello in mezzo quello al secondo da sinistra è Vittorio Emanuele Orlando che parla che parla col primo ministro inglese Lloyd George e l'ultimo a destra con quell'aria così da grande gentiluomo è Wilson che voleva le nazioni il principio di nazionalità eccetera e questa è l'ultima diapositiva amici miei questa è l'ultima diapositiva che ci porta al 1951 perché dico 1951 perché di nuovo con un'operazione che apparentemente era solo economica si volle porre fine a che cosa a secoli di guerra che gli europei avevano combattuto soprattutto per il possesso delle aree di produzione del carbone e dei minerali di ferro che sono le aree dove cruciali per fare la guerra quindi la comunità economica del carbone e dell'acciaio di cui ormai ci siamo dimenticati perché è stata inclovata nella comunità economica europea poi nell'unione europea fu un momento pensate a soli sei anni dalla fine della guerra a fine di essersi scannati in quel modo che ci eravamo scannati noi europei si dice basta da adesso in poi no un po' di sovranità quella sulle risorse economiche del carbone e dell'acciaio viene messa in comune questa fu la grande invenzione mai prima e neanche dopo provata nella storia i paesi che si privano di un po' di sovranità e la mettono in comune la comunità economica del carbone e dell'acciaio fu pensata pensando all'Alsazia Lorena che era passata di mano mille volte almeno tre volte diciamo ma molto prima perché Luigi XIV combatteva per quello no? L'Azar le zone attorno a Lussemburgo per far sì che nessuno di questi paesi potesse monopolizzare la comunità economica del carbone dell'acciaio è molto semplice il carbone e l'acciaio vanno venduti a tutti i paesi allo stesso prezzo nessuno che sta a controllarli può dire li tengo per me non li vendo siamo in regime di libero scambio tutti possono comprare carbone e acciaio allo stesso prezzo per l'Italia fu una cosa molto importante perché finalmente poteva partire la nostra industria siderurgica che noi non abbiamo materie prime ma al di là di questo fu quello il momento fondante allora amici miei e con questo chiudo scusate chiudo con un briciolino di retorica lasciatemi fare un piccolo briciolino di retorica questa Europa che non ci piace tanto no il discorso politically correct oggi è dice si io sono per l'Europa ma non questa Europa e questa Europa con tutti i suoi difetti terribili con questa sua forse eccessiva focalizzazione sui temi economici ma poi i temi economici sono quelli che riguardano la vita di tutti ci ha regalato 70 anni di pace ci ha regalato 70 anni di pace che non c'erano mai stati prima nella storia di questo continente ci ha regalato una grande prosperità quindi la lezione la lezione di questa lunga seconda guerra dei trent'anni che comincia col collasso della prima globalizzazione per le contraddizioni che in questa seconda globalizzazione stanno riemergendo tutte molto simili a quelle degli anni 1900 1914 in questo noi da so ciascuno stato nostro non può pensare è una barchetta in mezzo alla tempesta quindi teniamoci cara miglioriamo questa Europa lavoriamo ma la lezione della storia chiarissima è che questa Europa nata questo piccolo embrione che è la comunità economica del carbone dell'acciaio e poi sviluppatasi fino alla unione monetaria eccetera è qualcosa di prezioso che dobbiamo migliorare ma non possiamo certamente dire che non ci piace se non è diverso intanto teniamoci questa e poi miglioriamo grazie molte grazie dell'attenzione grazie a tutti grazie a tutti